Salve carissimi amici tutubi e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla Per quanto io l'abbia letto in digitale, questo numero di Topolino, il 3590, non potevo non comprarlo In virtù del fatto che questo è uno dei numeri Double Fass Dove abbiamo questa copertina d'opera di Giuseppe Facciotto per i colori di Mario Perrotta Che va a riprendere una delle storie del numero, non la storia di apertura ma una di quelle successive Non ho capito il perché di questa scelta ma va bene così E dall'altra parte What If Paperino diventa The Mighty Thor Ad opera di Walter Simonson la copertina, copertina che non mi fa impazzire ma l'autore ha gli anni che ha E comunque fa piacere rivederlo all'opera col personaggio di Thor per quanto in una veste editoriale un pochettino più particolare L'editoriale iniziale di Alex Bertani ci introduce per l'appunto l'arrivo della nuova storia del What If Dedicato a Thor Per poi passarci a raccontare un po' del ritorno di Minnie Pret-a-Porter La nuova serie diciamo così sul mondo dell'atelier e del mondo della moda Con Minnie come protagonista Ci anticipa il ritorno la settimana prossima di una storia che riguarda gli scaccia fantasmi Quindi il classico dell'animazione, del corto dell'animazione Che è stato già ripreso anche recentemente ma che riceverà un sequel omaggio ad opera di Luca Barbieri Probabilmente sempre nell'ottica di festeggiare i 90 anni di Paperino Per quanto è un classico che è stato già tirato fuori non troppo tempo fa o anche solo banalmente l'anno scorso per i cent'anni della Disney Ce lo facciamo andare bene Comunque un modo per vedere assieme di nuovo Paperino insieme a Topolino e Pippo In una dinamica che ormai conosciamo con dei simpatici fantasmi Non perdiamoci troppo in chiacchiere Dunque questo numero di Topolino contiene 5 storie ma 2 sono appuntate Quindi andiamo subito ad analizzare le 4 posizioni di questo video Ma prima di iniziare Sigla E c'è poco da dire La storia che mi è piaciuta di meno è Paperino, Paperoga e l'innafforabile Pallonardi Roberto Gagnor ai testi, Alessandro Perina alle matite, Riene Fornari ai colori Storia che ha dato anche la copertina di questo numero Storia che ci fa ricordare che allegato a questo numero ci sono le Adrenaline Delle carte da gioco in un qualche modo collezionabili riguardanti il mondo del calcio E che su questo numero e sui prossimi due se non ho capito male Non ho letto l'editoriale non interessandomi diciamo così la questione Ci saranno allegate a Topolino con un livello sovrapprezzo queste carte da gioco Che ritraggono i protagonisti Disney in chiave calcistica E che sono comunque confrontabili con gli altri calciatori se non ho capito male Perché comunque è un gioco che non conosco Non mi interessa il mondo del calcio quindi non mi interessa questo tipo di collezione Qui abbiamo Paperino e Paperoga in questo caso Che dovranno trovare questo fantomatico Pallonar Che è un famoso calciatore che è molto famoso perché è molto abile E Paperone lo vorrebbe ingaggiare per il suo Paperopoli fondamentalmente Chiederà l'aiuto di Paperino e Paperoga in questo caso come agenti del Paper Sera Come inviati del Paper Sera gli chiederanno di cercarlo per poi convincere ad unirsi al Paper Sera In parallelo anche Rockerdak vorrà precettare questo calciatore per portarlo per l'appunto nelle sue squadre Chi riuscirà a portarlo prima nelle sue fila lo scoprirete eventualmente leggendo questa storia Una caccia all'uomo vera e propria condita di tantissime gag Che però mi hanno lasciato veramente molto molto poco Qui concerne anche il fatto che l'argomento calcistico non è mio Non mi appartiene quindi la storia in generale non mi ha interessato Anche se più che di calcio si parla proprio di calcio mercato Quindi di acquiste e compravendita dei calciatori Per per l'appunto formare la nuova squadra per avere la nuova formazione Ma in generale non essendo questo un ambiente che mi interessa particolarmente E che in realtà mi fa piacere vedere quando ci sono storie che riguardano diciamo tematiche Riguardanti lo sport ma per i suoi valori per i valori che questi portano E non come sport fine a se stesso Questa qui è una storia che non poteva far breccia e infatti non l'ha fatto In terza posizione Zio Vaperone e le voci dallo spazio Di Giovanni De Feo ai testi Paolo De Lorenzi alle matite Emanuele Vrizia e colori Da notare che Paolo De Lorenzi compare su due numeri di topolino consecutivi Dopo un'assenza di tantissimo tempo E mi fa piacere perché è uno stile che non mi dispiace Complici anche questo tratto molto molto sottile Dovuto alle chine tra l'altro sempre da lui curate Quindi mi fa piacere Un bello stile molto grosso ma con una china molto molto sottile Quindi è qualcosa di un po' peculiare In generale questa storia ci vuole parlare di spazio Con un paperone che dovrebbe smaltire i satelliti che ha inviato nello spazio Ma non vuole farlo perché costa Quindi viene a scoprire una teoria scientifica Per cui le voci si diffondono nello spazio Quindi sarebbe possibile andarle ad intercettare da qualche parte nello spazio Perché le onde sonore si propagano nello spazio all'infinito E verso l'infinito Quindi beccando, triangolando la posizione giusta Pura fantascienza Paperone vorrà vendere le voci dei famosi storici del passato Di personaggi storici famosi A vari musei, varie cose Perché sono le voci di Giulio Cesare Le voci di Napoleone La voce di Tizio La voce di Caio Non lo so Allora, l'idea poteva essere carina Ma alla fine diventa un po' questo E non lo so Non ha saputo convincermi al 100% Non è una brutta storia L'ho trovata banalmente un po' più interessante Della storia in quarta posizione Perché l'idea scientifica Per quanto molto prodotta all'estremo Ci può stare E dà un'idea interessante Di come si propagano le onde sonore Quindi l'idea anche di acculturare il lettore Ci sta Mi ha fatto piacere Ecco, sotto questo punto di vista Quindi la storia che mi ha fatto piacere A livello concreto di Ciccia Secondo me a un certo punto si va a perdere Per poi finire in una maniera un po' inaspettata O forse inaspettata per me Però non mi aspettavo questo risvolto nel finale O meglio Visto l'inizio mi aspettavo il risvolto finale E che all'inizio quella scena Che poi serve per capire il finale È letteralmente buttata lì Male, molto molto male Non ha troppa contestualizzazione E finisce per essere solamente uno spunto Che servirà poi nel finale Per far decidere a Paperoni Cosa fare di questa invenzione fondamentalmente Però le idee sono carine Ci stanno E nell'insieme Ho trovato una storia Molto tranquilla Ecco, diciamola così Un po' molto Purtroppo sufficiente In seconda posizione Vado ad inserire Mini Preta Portè Fashion Academy La classe Storia di Sergio Badino Ai testi Giulia Lomurno Che anche qui Ho molto piacere di rivedere Questa giovane disegnatrice All'opera E qui alle prese Con dei personaggi Che aveva poco Per nulla usato Vado molto Sicuramente non avevo usato Tutti i comprimari Di Mini Preta Portè Ma anche Mini Non mi sembra che l'abbia usato Più di troppo Abbiamo Roberta Zanotta Alle Chine Chiara Bonaccini Ai clori Visivamente la storia Ma ha saputo convincere Forse anche più del taglio Che gli aveva dato Già da Frissinotto Però Per qualcuno Probabilmente dirò un'eresia Però Uno stile Che non mi è dispiaciuto molto A livello di storia Non ha saputo far breccia Quindi È una storia lunga In due tempi Tra l'altro È la prima porzione Di una storia Che vedrà il suo seguito Settimana prossima Quindi non capisco Perché Identificare Episodio 1 Di 2 Se poi Di fatto la storia È una storia In quattro tempi Fortunatamente Diciamo così I prossimi due tempi Sono settimana prossima Quindi li vediamo subito Però questa suddivisione Non mi ha convinto Più di troppo L'idea di base È che Minnie E la sua amica Di cui non ricordo Mai il nome Vengono contattate Da una famosa Accademia di moda Per diventare Insegnanti E Propongono quindi Alla loro classe Un tema Da affrontare E qui Succedono un pochettino Di cose Lo so che detta così Detta proprio Male 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 Ma Cercare di sviscerare Punto per punto Diventa difficile Diventa complesso Perché in realtà Succedono tante cose Ma il punto focale È Minnie E la sua amica Diventano Insegnanti di moda In un'accademia di moda Nel momento Che dovrebbero gestire Anche la loro boutique Così Giusto per E Insegnano un po' di cose Alla classe Tra l'altro Molto molto veloce Molto sbligativo Per poi dargli Come compito Quello di realizzare I vestiti Per un film O meglio Per proporre Dei vestiti Agli attori Al cast Di un certo determinato film Ma Non credo Che lo facciano Gli studenti Questa cosa Boh Mi sembrava un po' Esasperata la cosa Però Boh Non conoscendo il mondo Del cinema Mi tiro fuori Da questa cosa Quindi magari ci sono davvero Gli studenti Che vengono coinvolti Nella realizzazione Di abiti Per Per i protagonisti Di film Mi sembra molto molto strano Posso capire Magari in fase di studio Magari qualche costumista Per qualche personaggio minore Non per i personaggi principali Del film Però magari Si è voluto dare Anche l'idea Del Insomma Dell'importanza Del compito Quindi Si è scelto di far fare Le cose per i protagonisti E Minnie e la sua amica Scoprono che comunque Insegnare è particolarmente difficile E particolarmente complesso Tanto più Le cose diventano Complesse Da gestire Nel corso del tempo Tanto più Ci sono tante idee Discortanti All'interno di una stessa classe Quindi c'è anche il tema Diciamo così Più accademico Più riguardante la scuola Che risulta comunque Interessante Che ci porta a fare Delle riflessioni Sul mondo dell'educazione E' una cosa che ho apprezzato Perché per quanto io Non sia insegnante Lavoro in tutt'altro ambito Da educatore scout Chiaramente Non ho una classe A cui faccio insegnante E quant'altro Però È una tematica Sulla quale Da educatore Insieme agli altri Capi educatori Ci troviamo a riflettere Sul Come farla Quando farla Come farla Perché farla In un certo determinato modo Piuttosto che un altro In che modo Cercare di coinvolgere Tutti quanti i ragazzi Per quanto più in piccolo Per un tempo Molto più limitato Sono cose Sulla quale Mi trovo a riflettere Un pochettino Più quotidianamente Non quotidianamente Però in maniera Abbastanza periodica E il trovarmelo Sotto mano E' stata comunque Interessante Perché sì La storia Non sembra focalizzarsi Su quello Ma parla anche di quello E lo fa in maniera Non banale Non del tutto banale In una maniera Molto semplice Ma non banale E la cosa Non è scontata Resta il fatto Che come storia L'ho trovata Molto 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 lenta E Con Anche non troppissimo Da dire Tant'è che Quando sono giunto Alla fine C'era il Ci vediamo Settimana prossima Mi son detto Davvero Ho già letto Sessanta pagine Ed è solamente Questo Quello che mi son trovato Davanti Molto bella Molto carina Esteticamente La storia Intendiamoci Però A livello di sostanza Non ci ho trovato Poi troppo Mi spiace dirlo Mi spiace dirlo Riflessioni carine Su certe tematiche Quello l'ho molto apprezzato Ed è un po' il motivo Per cui questa storia Si trova In questa seconda Posizione Qui lo ammetto In prima posizione Non poteva per me Non esserci O meglio Speravo Non ci dovesse essere Però C'è C'è capitato What if Paperino diventa Thor Abbiamo Steve Belling Che non ho idea Di chi sia Il soggetto della storia Riccardo Secchi Alla sceneggiatura Il soggetto Tra l'altro Nell'intervista Ho avuto delle rivelazioni Di quest'autore Incredibili Non ne avevo idea In realtà Quindi colpa mia Che non mi sono informato Di quest'autore storico Del topolino E del suo background Qui alzo le mani Ho commesso Peccato di ignoranza E Lorenzo Pastrovicchio Lorenzo Non Alessandro Lorenzo Pastrovicchio Alle matite Spero di Sto giro Non posso Avelo sbagliato Perché ce l'ho scritto Qui sotto Ma Lorenzo Di solito Li sbaglio sempre I due fratelli Non lo so Nella mia testa C'ho in mente Lorenzo Tra l'altro C'ho in mente I non capelli di Lorenzo Ma a volte Dico Alessandro E me ne scuso Tutte le volte Che ho confuso I due fratelli Completamente in maniera Involontaria Semplicemente perché Non lo so Lucio Ruvidotti Di edizione BD Ha i colori Tra l'altro Dei gran bei colori Ora Sulla copia cartacea I colori sono Completamente Smarmellati Completamente Smarmellati Infatti ho apprezzato L'averla letta In digitale Nella versione digitale Perché lì i colori Sono tutti Belli 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 Vividi E quindi Ok Perché dico Che questa storia Era molto probabile Fosse in prima posizione Perché unisce Il mondo Disney Col mio Supereroe preferito Marvel Ovvero sia Thor Ma questo Non è Condizio sine qua non Allora La storia è bella Intendiamoci La storia è bella Per due motivi fondamentali Il Continuo voler essere Espressamente Citazionista Di quella che è stata La prima apparizione Di Thor Nel mondo Dell'editoria Dei fumetti Andando a riprendere Journey into Mystery 83 Ma al tempo stesso Rendendolo Molto più Comico Molto più Ilare Molto più divertito E molto più Divertente Rispetto a come era La versione originale Di Stellie Jack Kirby Insomma Due nomi Giusto così Fondamentalmente La versione originale Qui abbiamo Lorenzo Pastrovicchio Che visivamente Parlando Fa delle tavole Da paura Fa delle tavole Da paura Quindi molto belle Visivamente A livello di storia Si va a riprendere La prima apparizione Con tanto di Escamotaggi narrativi Che rendono Paperino Donald Blake Zoppo La Come trova il bastone In una maniera Molto molto simile Sì Cambia il contesto Nel quale Il nostro protagonista Si reca in Norvegia Anche perché Nei fumetti Non c'è alcun criterio È proprio una roba Buttata lì Completamente Anche la rassa aliena In questo caso Pietrosa Che il nostro Thor Si troverà ad affrontare È sempre una citazione Un omaggio Alla primissima Storia di Thor Dove C'erano degli uomini Di pietra Contro cui Doveva avere a che fare Anche Le varie problematiche I poteri Che il martello Offre I problemi Che dà il martello Sono tutte cose Molto molto fedeli Alla storia originale E ho apprezzato molto Questo Voler coccolare Sia Il lettore disneyano In una storia Supereroristica Comica Molto divertente Molto divertente E piuttosto Riuscita Pensarlo come Thor Ovviamente Ovviamente fa strano Ci sono un po' Di vignette Che lo rendono Un po' goffo Un po' impacciato Per renderlo Molto molto più comico Ma ci sono anche Dei primi piani O una splendida Splash page Che rendono Appieno Tutta l'epicità Di questo personaggio Rendono appieno L'epicità Di Thor Proprio In pieno In pieno In pieno E quindi Qui lo dico Anche pubblicamente Io voglio Un disegno a colori Di Lorenzo Pastrovicchio Di Torino Perché ovviamente Paperino diventa Thor Diventa Torino E Il personaggio Viene chiamato Thor Nella sua veste di Thor Quindi Un po' la stessa cosa Che era successa Nel numero No Nel numero scorso Con Wolverine Era Paperino Wolverine In cui si è scelto Di farlo diventare Thor Direttamente Compre c'è anche il fatto Che in realtà È Paperino Nelle sue vesti normali Ed è Thor Nel momento in cui Impugna il martello E diventa Thor Perché si trasforma In Thor Quindi In realtà La congiunzione Del nome Ha senso Tra l'altro Era Donald Blake Quindi Paperino Donald Aveva senso Ha più senso Probabilmente in America Che non in Italia Non ho letto La versione americana Aspetto di avere D'ho visto cose L'ho spillato americano Ci metterò un po' Perché sto aspettando Che ci sia diverso materiale In casella Prima di fare Di farmi recapitare tutto In realtà nella fattispecie Sto aspettando Che arrivi Il terzo omnibus Di PK Perché l'ho ordinato lì Un po' per praticità Un po' per comodità Per poter farmi avere Un pochettino tutto quanto Quindi ci metterò Un po' di tempo Parecchio tempo In realtà Leggerò volentieri Anche la versione americana Di questa storia Per vedere Divergenze E quant'altro Magari vi farò Un video dedicato Quando Per parlarvi Sia di questo Che di Wolverine Giusto per darci Un'idea Di quanto Potrebbe essere Cambiato l'adattamento Sicuramente Verrà proposto In futuro Da parte di Panini Un volume Con tutti questi What if Già me lo vedo Ma è ovvio Che sia così Non me lo aspetto A brevissimo giro Anche perché Altre storie Sono in produzione Stanno per arrivare Sappiamo già Che breve Avremo Mini che diventa Capitan Marvel Per i disegni Di Giada Perissinotto Non ricordo Che sia Lo sceneggiatore Però Sappiamo che Ce ne saranno altri E quindi Essendocene altri Vedremo nel corso del tempo Per l'appunto Nuovi episodi Di questi What if E poi Prenderemo Sicuramente Anche il volume Oddio Prenderemo Sicuramente Non lo so Dipende Come saranno Gli altri What if Ma questo di Thor Secondo me Merita Merita parecchio In un'ottica Molto divertita Molto divertente Sapendo che È una storia Molto riempitiva Per quanto riguarda Il topolino Ma è una storia Molto divertente Molto citazionistica Una parodia moderna Di un classico Del fumetto Americano Ed è In quest'ottica Che io la vado a prendere Una sorta di parodia Fortemente voluta In realtà Dalla casa produttrice Marvel Ma in questo caso È una parodia Molto fedele Molto aderente Per l'appunto All'universo Marvel E a Thor Nella fattispecie Purtroppo Questo numero di topolino Mi sento di dire Non essere particolarmente Riuscito Le storie in generale Non mi hanno convinto Particolarmente Trattano tematiche In realtà anche interessanti Anche abbastanza profonde Ma non riescono mai Quindi in un formato Che comunque risulta Che comunque risulta molto leggibile Sintomo che forse Hanno ritoccato Un po' I testi Rispetto alla versione americana Appunto Di domanda Non avendola vista Non Insomma Non ci scommetterei troppo Però non è così Impensabile Quindi in realtà Se siete interessati Solo a What if Paperino diventa Thor Vi direi di aspettare Lo spillato Di prossima uscita Se invece lo volete leggere Subito A 3,50 Avrete Altre storie Purtroppo Non particolarmente Riuscite Questo qui è un numero Che mi ha abbastanza Deluso Mi viene proprio da dire Così Purtroppo Mi viene da dire così Un numero che non ho trovato Particolarmente brillante Non è tutto Da buttare via Intendiamoci Le tematiche che vengono affrontate In alcune storie Sono interessanti Ed è interessante Che vengono proposte I lettori più giovani Ma le storie Non mi sono mai sembrate Troppo frizzanti Troppo divertenti Finendo per essere Un pochettino noiose Nel loro insieme Purtroppo E questo è quanto Avevo da dire Per voi Per oggi Ci sentiamo E ci leggiamo Nello spazio dei commenti Di youtube qui sotto Dove potete dirmi la vostra Se avete letto questo numero Di topolino Se vi sia piaciuto O meno E continuare La discussione assieme Da Francesco Dalla soffitta di camera mia È davvero tutto E noi ci vediamo In una prossima Video opinione del canale Ciao